Che per una volta il preside sia gentile con... E quello che hai fatto con la chitarra è davvero inconcepibile. Non fa così, Kumbaya. Neil! È così bello vederti ad ora il tuo abito. È veramente proprio un bel completo, così simile a quelli che hai sempre indossato. Ma il tuo atteggiamento liberista è in forte contrapposizione al mio approccio da manuale. È un onore averti tra noi. Grazie. Bene. Sì!